E' un freddo dell'ottanta. Il successo comincia dalla testa. Se volete dare più stile e personalità ai vostri capelli, entrate in un salone tagliati per il successo. Ce ne sono mille in tutta Italia. Qui esperti, creatori ed immagini, sempre attenti alle nuove tendenze, renderanno unico il vostro stile con tagli e colori davvero sorprendenti. Nei saloni tagliati per il successo trovate l'esclusiva Linea Screen. Un'intera gamma di prodotti ideati per prendersi cura dei vostri capelli. Come questo Screen Color è una vera novità. Un prodotto che grazie alla sua formula esclusiva e 80 diversi colori, profuma e migliora la struttura dei capelli. Entrate anche voi nel club Tagliati per il Successo. Chiamatelo 085 44 64 776 o visitate il sito internet. Un grande gruppo, giovane e dinamico, un team internazionale di professionisti del settore, con tecniche sempre innovative, vi dimostreranno che anche voi siete tagliati per il successo. Dentro i limiti, fuori dalle regole. Italia 1 Grazie. Grazie.